Purtroppo lo spettacolo è deprimente e sembra crescere. Io spero che la gente, la gente sempre, la gente quotidiana, il popolo concreto delle nostre città, dei nostri paesi, dei nostri centri, non si lasci deprimere e scoraggiare dai cattivi esempi che vengono da tante parti, soprattutto da chi ha maggiori responsabilità nella cosa pubblica. La gente semplice, il popolo degli onesti deve assolutamente reagire senza deprimersi, continuando a fare con onestà e competenza il proprio lavoro.